Tre auto e due ciclomotori completamente distrutti dalle fiamme, la facciata di un palazzo danneggiata, in particolare gli infissi dell'appartamento situato al piano terra. E il pesante bilancio di un incendio divampato intorno all'1.30 della scorsa notte a Milazzo. È stata una notte di panico per gli abitanti di via Calatafimi, destati nel sonno dagli scoppi e dal fragore causati da rogo. I mezzi che sono stati letteralmente divorati dalle fiamme erano parcheggiati non lontano dall'incrocio con la via Marsala. Sul lato sinistro della via Calatafimi erano parcheggiate una Fiat Punto e una Renault Clio, in prossimità delle quali sul marciapiede erano sistemati due ciclomotori andati completamente distrutti, ovvero un Piaggio Beverly ed uno Yamaha X-Max. Sul lato destro dell'arteria, leggermente più avanti, era invece parcheggiata una Peugeot 206. Secondo indiscrezioni, sembra che le fiamme inizialmente abbiano colpito proprio la Peugeot 206 ed uno dei motocicli. Come detto, il rogo ha causato danni anche alla facciata del palazzo davanti al quale erano state parcheggiate due delle tre vetture andate distrutte di due ciclomotori. Il fuoco ha infranto i vetri dell'appartamento situato al piano terra ed annientato le serrande. Soltanto la prontezza di riflessi del proprietario dell'abitazione ha evitato il peggio. L'uomo, accortosi della furia delle fiamme, ha subito provveduto a tirare via le tende dalle finestre con i rispettivi binari. Un gesto di lucidità che ha impedito al fuoco di espandersi anche all'interno della casa. Sul fatto indagano gli uomini del commissariato di polizia di Milazzo intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Sembra anche, sempre secondo indiscrezioni, che nei pressi dei mezzi incendiati, gli inquirenti abbiano rinvenuto bottiglie che in precedenza avrebbero contenuto liquido infiammabile.